Il quarto cavaliere. Vidi, ed ecco un cavallo verde, e colui che vi si sedeva sopra si chiamava Morte Thanatos, e l'Ade Aides lo seguiva. E fu data loro l'autorità sulla quarta parte della terra di uccidere con la spada, e con la carestia, e con la morte, e dalle bestie selvagge della terra. Apocalisse capitolo 6 verso 8. La parola greca Aides ade significa non vista. È usato insieme alla morte per riferirsi al luogo invisibile dei morti. Dovremmo capire l'uso di Morte e l'Ade nello stesso modo in cui lo comprendiamo nei versetti capitolo 20 versi 13 e 14. E il mare rinunciò ai morti che vi erano dentro, e Morte e l'Ade rinunciò ai morti che erano in loro. La morte e l'Ade furono gettati nel lago di fuoco. La morte è il luogo invisibile dei morti sulla terra oggi. Sì, da un capo all'altro della terra. Quando hanno iniziato la loro corsa, Morte e Ade. Quando Adamo ed Eva peccarono. Pertanto, come da un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e la morte dal peccato, e così la morte passò su tutti gli uomini, poiché tutti hanno peccato. Romani capitolo 5 verso 12. Poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, anche così in Cristo tutti saranno resi vivi. Prima Corinzi capitolo 15 versi 21 e 22. Il quarto cavaliere è la morte. Il quarto cavaliere è esattamente chi la Bibbia ci dice che è. Morte e l'Ade, il luogo invisibile dei morti. Morte e l'Ade, il luogo invisibile dei morti. Morte e l'Ade, il luogo invisibile dei morti.